Il coronavirus ha fermato il festival del peperone dolce di Altino e il palio culinario delle contrade, ma non la comunità, che si è riunita a convegno per parlare del prodotto tipico locale e di progettazione per il futuro. Aspettando l'edizione del 2021, il neopresidente dell'Associazione di Tutela, Mariella Di Lallo, ha illustrato il cammino della comunità del peperone. L'esperienza del palio culinario è stata ripercorsa attraverso i piatti elaborati dai contradaioli nel corso degli anni, con la guida del presidente di giuria, lo chef Ermano Di Paolo. Tradizione e innovazione per l'ingrediente principe in cucina, il peperone dolce di Altino, esaltato nelle varie declinazioni dal salato al dolce. Ospite anche lo chef stellato Peppino Tinari di Villa Maiella, giurato del palio, nel 2017. Tra i relatori anche l'accademico della cucina italiana Mimmo D'Alessio, il presidente del GAL Maiella Verde, Tiziano Teti. Sono intervenuti i sindaci del comprensorio, ospiti del sindaco di Altino, Vincenzo Muratelli. Alle contrade intervenute, il direttivo dell'Associazione di Tutela ha consegnato una targa a ricordo, mentre le massaie in cucina hanno preparato i piatti tipici della tradizione, mostrati anche nel video intitolato In cucina col peperone.